Ben trovati a tutti quanti ragazzi, siamo qui a divisione 6, abbiamo qui una grandissima squadra del campionato inglese e dobbiamo andare verso la divisione 1, ripeto un punteggio pieno qui la divisione 6, parte a bomba ragazzi, un vecchio pallo della battuta, non è più da fare, pala lunga verso l'uca, ti diceva Nengolan, Martens, nuovo acquisto Martens, ancora con Nengolan, Higuain, Nengolan, una serie di scambi, Nengolan, oddio che fallo qui, lo ci ha fatto, al settimo minuto qui, mai da un cartellino giallo, ed eccolo qui, diamogli da questo giallo, grande albero, Elia, qui in Mandiana, alla battuta, il nostro Nira Lempiani c'è, definito Giotto, vediamo qua, prova la battuta, il tiro, è una parata abbastanza semplice, dunque, spingiamo l'attacco loro, al quundicesimo, Candreva, Higuain, Nengolan, ancora Higuain, allarga per Candreva, prova lo scatto con Andreva, anche esso l'ultimo giocatore, uno degli ultimi comprati, viene elevata a Giotto, fallo su piano, dice sì, vediamo, la battuta, il nostro Giotto, il nostro pittore, designa una grandissima parabola, 17 minuti e 44 secondi, che punizione immensa del nostro Nira Lempiani, ricomincia la partita al diciottesimo, stiamo 1-0 sopra ragazzi, ora Walker, ora lanciare Navas, Navas avanti per Lucani, un grandstop, da sola tutto il portiere, il palo, porca miseria come ci siamo salvati ragazzi, comunque, è il ventunesimo, mamma mia qua non ci stanno facendo capire niente, Lukaku taglia a mezzo a due, stoppa, controlla, sbarca pure il portiere Lukaku, ragazzi da pittadini, Oscar, fermano Higuain, Gesù, Gesù, Higuain contro l'Higuain, prova a mandare lui contro tutti e cinque difensori, Higuain, 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 resista la carica, punta per terra, questi rigori, fischiate rigori, no raga, pure Gioallo, vergognoso, vergognoso, vogliamo arrivare in campo ragazzi, questa è la falla per noi, alla battuta al trentottesimo, il contropiere, subiamo questo contropiere, Sterling, attenzione che è un giocatore, Sterling, nessuno arriva addosso, Sterling, arriva una Noras, ma Sterling riesce a crossare in mezzo, Ferraninio che è imparata, Noras da sola, lasciate da sola ragazzi, arriviamo qua, 45esimo, l'ultima speranza dell'ultima azione del primo tempo, Higuain, perché Andreeva, che Andreeva, pronta a fare il cross, il viso di loro, e proprio fuori, 48esimo, stiamo al secondo tempo, cross in mezzo, Dupiagrici, Manolas, mamma mia bellissima parata del difensore di testa, comunque le spingiamo l'attacca, 50esimo, 50esimo, guardate qua che Andreeva cosa subisce, l'arbitro, poi l'idea rosso, perfino Martens va a dare una mano che andreeva su Caliglia, l'arbitro di Ceneri, giallo, va bene, se questo è giallo ragazzi, falla a centro campo, da dietro, poveri noi, poveri noi, vabbè, guarda, guarda, guarda qua, porca miseria, questo gli ha dato un bel cartellino giallo, vabbè, 50esimo, Lich Steiner, fa la finta alla fascia, invece la passa a Guaiesus, Guaiesus, Pjanic, Pjanic, Martens, Martens, gran finta, avete Higuain, Higuain ancora Martens, e mi viene arrivata parata Mangara, Mangara, Oscar, possiamo subire un contropiede pericolosissimo, qua erano giocatori velocissimi, Fernandinho, lunga per Sterling, attenzione, Sterling, può andare al cross, eccolo, mamma mia, Lukaku, oggi no, no, ragazzi, non c'ho parato, dobbiamo prendere il forzo a noi così scemo, per forzo a noi così scemo dobbiamo rischiare, 69esimo, Navas, arriva a fondo, mamma mia, Samuagra, anche Usura, uno, anche lui, ultimo acquistato, palla a Guaiesi, Guaiesi lancia Menez, mamma mia, Geremia Menez, dai Geremia, dai Geremia, la finta su Volker, su Cail, Cail, grandissima, lo ferma, ma perde palla, Cail, l'attenzione a me in tarta che mi sono stato zitto, però, mi levano palla a Guaiesi, 76esimo, da una battuta sbagliata, arriva a Samuagra, Menez, Imanz Iguain, Iguain, Candreva a tiro di prima, grandissima, è una situazione 76, ce la possiamo fare, i nostri gladiatori, non mollano mai, ce ne dobbiamo continuare, 81, Iguain, Iguain, che ferma Lugato, ma non è stato un passaggio a radio sull'avapesa Sterling, comunque, Candreva, Iguain, Martens, Iguain, eccolo qui, lancio a lungo uscere, Imanz, Gasolatupatupo, il portiere, gran parata, mamma mia, ci si butta e segna, e adesso lo posso dire, mamma mia, quante è forte, genia, 84esimo, 3 a 2 per noi, forza ragazzi, così grintosi, così grintosi che dobbiamo vincere, dobbiamo vincere, forza, dobbiamo andare a prima divisione, su, su, attenzione, 90esimo, mamma mia, Stai da ferma tutto, pianice, ancora per lui, la prendi Iguain, lunga permanenza, attenzione, può essere un'ultima azione, possiamo chiudere, e andiamo parlando il portiere, e finisce così, ciao ragazzi, alla prossima, boom baby!